Un caro saluto da Mario Giuliaci. Il tempo previsto per la prima quindicina di luglio, ovviamente come tendenza. Caldo africano debellato tra il 2 e il 6 luglio per l'arrivo di due perturbazioni atlantiche dalla Francia. La seconda perturbazione sarà piuttosto temporalesca al nord e marginalmente anche sulla regione centrale tra il 3 e il 5 luglio. Poi seguirà una nuova ondata di caldo tra il 7 e l'11 di luglio per l'arrivo di due nuclei di aria sub-tropicale atlantica e quindi meno rovente di quella nordafricana che attualmente sta interessando la penisola. Poi tra il 12 e il 15 luglio probabilmente il ritorno di miti correnti atlantiche. Le temperature il primo di luglio, ultima giornata con caldo al di sopra della media su gran parte dell'Italia, ma poi tra il 2 e il 6 luglio temperature in calo da prima al centro nord, tra il 5 e il 6 anche al sud, tra il 5 e il 6 le temperature si porteranno ovunque nei valori massimi sotto 30 gradi. Ma poi tra il 7 e l'11 di luglio due ondate di caldo in arrivo dall'area sub-tropicale atlantica. La prima ondata sarà tra il 7 e il 9 di luglio e interesserà soprattutto la regione di nord-ovest, regioni tireniche, isole maggiori con valori massimi però non eccezionale, valori massimi intorno a 33 e 35 gradi. La seconda ondata interesserà invece soprattutto il centro sud tra il 10 e l'11 di luglio con valore massimo anche qui tra i 33 e i 35 gradi. Termino qui, un caro saluto ancora da Maria Giuliaci.